King, contento sicuramente per il tuo esordio in maglia rossa-azzurra, il tuo esordio in Serie A, forse un po' meno per il risultato che è venuto fuori da questa Tadania Parma? Sì, sicuramente contento per l'esordio, il risultato, se fosse arrivato il gol sarebbe stato meglio, però è un punto da tenersi stretto perché aiuterà la risalita. Infatti, doveva essere la partita del riscatto dopo le tre sconfitte iniziali, però cosa non è andato? Non parlerei di cosa non è andato, noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci ha chiesto il Ministero in settimana, è mancato il gol ma arriverà, il gol arriverà. Per quel dia arriva la Lazio, con quale spirito si esce da questo periodo? Penso che con la forza del gruppo si possa uscire da ogni difficoltà, il gruppo è affiatato, è unito, quindi ce la faremo, se prendete. Come dicevi in conferenza stampa, in settimana hai voglia di giocartela con tutti, anche per un posto da titolare? Penso che se non avessi voglia non dovrei stare qua, la voglia bisogna avercela anche perché sono giovane, quindi io in allenamento cerco di imparare dai più grandi e quando sarò chiamato in causa ce la metterò tutta. Grazie. Grazie.